ciao allora vabbò ho detto allora non importa comunque prima comunicazione importante sto usando la webcam del computer nuovo quindi voglio testare un po' come funziona queste cose qua se non mi piace tornerò con l'altra webcam comunque oggi pomeriggio sono uscita con le mie amiche e siamo andate a Torino a Laoshan siamo andate sono andata e loro mi hanno fatto compagnia al Sephora della Laoshan dove ci sono i saldi ovviamente io ho dimenticato il buono sconto che avevo e quindi ho pagato con quello che costava tanto c'era già il saldo quindi allora ho preso il piegaciglia portatile che è così che praticamente aspettate perché ci ho messo un po' a capire come funzionava ecco si tira questa levettina qui si tira giù e rimane così voi schiacciando questa levettina qui schiacciate anche il piegaciglia cioè schiacciate fate partire la molla che piega le ciglia non so se funziona però volevo provare questo qui perché cioè tipo quando viaggio non voglio riportarmi quello mio effettivo poi ho preso ovviamente tutto quello che ho preso era in saldo cosa ho preso? una maschera per i capelli però io non riesco a leggere in francese cioè non non so il francese quindi non ho idea cosa serve in realtà questa maschera ah no ce l'ha anche quella in inglese forse riesco a capire qualcosa anche da qui ah è formulata per idratare i capelli ripararli senza una cosa che non la parola non la conosco li rende più forti morbidi e lucidi ed è questa qui sono le maschere tipo da viaggio non so come spiegarle per capelli poi ho preso questo stuccio allora questi due se ne prendevi due di questa roba qui pagavi 3 euro quindi 2 3 euro poi ho preso questo succino qua carino della sephora 5 euro l'ho pagato ed è così per metterci non so ancora cosa ci metterò dentro comunque lo userò per il lavoro sicuramente non lo userò per me poi ho preso queste 3 limettine colorate perchè sapete sapete che mi sono trasferita da mio padre non sono più da mia madre e qui non avevo le limette e ho dovuto provvedere da me quindi sono andata a comprarmene e anche queste qua 4 mini maschere per il viso qua c'è scritto gommage elimina elimina l'impurità e le cellule morte e e e e ogni non so se si vede che sono 4 piccole confezioni una confezione e un un dosaggio un uso e queste 2 pure 3 euro 2 cose 3 euro 2 prodotti 3 euro e poi ho preso questa pasticchetta qua della accolina arancia e vaniglia da mettere nella vasca da bagno l'ho trovata spezzettata ma non importa perchè tanto alla fine va a finire nell'acqua questa 1 euro ce n'erano anche altre solo che volevo provarne solo una e poi ho preso questa qui la palette la green ideal palette questa qua 3 anni che cerco di comprarla ma costava troppo quella che volevo comprare io veramente era quella grossa sì quella grossa quella più grande costava sui 30 euro però alla fine qua c'è tutto in versione ridotta quindi va bene così e dentro è così bellissimo spettacolare io non so se riuscite a vedere il fard il blush con dentro la libellula di brillantini colori stupendi a me piace tantissimo questo rossetto qua questo qua e che diamine questo qui è bellissimo pure gli ombretti sono dei colori fantastici molto estivi secondo me molto molto belli e un'altra cosa sto notando io non riesco a capire da quanto tempo è che sto registrando non lo so chissà se riuscirò mai a capire come si usa questa webcam comunque in tutto è pagato 15 euro io comunque sto notando che le tessere non me le passano più cioè io la tessera gliel'ho data a sto giro ma la tessera qua nell'occontrino non risulta mi sembra mi sembra un po' strana questa cosa tornerò a lamentarmi comunque che altro dirvi sono un po' in crisi perchè non trovo lavoro sono sono veramente incredibile comunque io ah poi sono passata all'ovs nuovo dell'auchan scusate ma questi capelli sono passata all'ovs nuovo dell'auchan e ho visto che c'è anche l'essence dentro perchè nell'auchan di chivasso vendono i trucchi ma non non sono dell'auchan ho notato che veramente ci sono dei prezzi convenienti ed era tutto vuoto infatti una delle mie amiche si è comprata i cerotti per il naso per i puntineri del naso della essence anziché il cellulare finirà prima o poi